ora Domeli Kung Fu un mostro che si è trasformato in serpente che deve incircare l'acqua ricordo l'acqua deve incircare l'acqua vai 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 in direzione dove andare forse di qua eccoci maledetto mostro a noi due go 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 l'industrial guardate quando sei posato dell'acqua i fire e portali con la goscia sei più e poi devi colgare di vano No, 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 no! No, 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 no! Gap over... Guardate le avventure di Domenico Unfu, sì? Iscrivetevi al canale Domenico Unfu, vi divertirete, sì?